Oggi possiamo dire che la nostra comunità gioiosa è una comunità che tra le varie comunità del circondario ha una sorta di capacità, un modo di vivere all'interno della comunità che è abbastanza buono, ritengo io. Cosa abbiamo fatto in questi dieci anni? Ci siamo preoccupati, giustamente, intanto di definire i bisogni fondamentali, che era quello di mettere ordine in un sistema di gestione dei rifiuti che non c'era e abbiamo creato un sistema di gestione del servizio ambiente dove comunque si cresce giorno per giorno e si vive in un paese pulito. Ci siamo preoccupati delle nuove generazioni e una delle prime cose è mettere mano all'edilizia scolastica. Abbiamo praticamente concluso tutti gli interventi sull'edilizia scolastica, sono o stati realizzati, o in corso di realizzazione, o finanziati. Tutti gli asili, cioè le scuole dell'infanzia, demolite e ricostruite o da ristrutturare. Penso ad esempio al Gramsci che è praticamente pronta, l'asilo Limina è stato demolito e ricostruito per la creazione di un polo dell'infanzia, Elisabetta è andata a gara la settimana scorsa, sarà ristrutturata completamente anche lì con finanziamenti importanti. La scuola ovviamente Don Minzoni non è stato soltanto demolite e ricostruito il plesso della cosiddetta scuola elementare, ma anche la scuola per l'infanzia. Col PNRR abbiamo avuto finanziato un altro edificio all'interno della struttura, che è la mensa con il punto di cottura, perché è una cosa importante pure questo, cioè tutto questo cibo che viaggia in plastica e impacchettato non va bene, quindi abbiamo avuto finanziato con 450 mila Euro la costruzione di un edificio mensa all'interno del complesso. Consegneremo anche a breve anche il liceo scientifico, la parte delle aule, poi verrà fuori anche il palazzetto. Insomma ci siamo preoccupati di dare condizioni di vita migliore alle fasce di generazione. Poi ovviamente abbiamo lavorato molto sulla cultura, sulla capacità, anche una delle opere, quelle dell'accoglienza. Noi siamo paese dell'accoglienza dal 2013. Il portato non soltanto economico di questa attività, ma anche valoriale, nel senso che le nuove generazioni si sono abituate a vivere in un mondo multiculturale e multietnico, dove la paura non esiste del diverso, del colore della pelle diverso. E questo è un vantaggio. Oltre a questo si sono ovviamente susseguiti tantissime attività amministrative, che in qualche modo hanno portato questo paese ad avere una visione precisa. E siamo convinti di poter dire abbiamo tracciato una strada e siamo proiettati verso un futuro che è quello di costruire anche altre occasioni, non soltanto con i finanziamenti. Ma questi finanziamenti devono essere coordinati non soltanto col comune di Gioio Sionica, ma con l'intera aria. Per cui molti degli investimenti vengono programmati insieme agli altri comuni della Valle del Torbido, che è un altro grossissimo investimento che l'amministrazione ha fatto e che continuerà a fare. Penso ad esempio alla rigenerazione urbana dei parchi urbani, ma a tutti gli interventi sulle strutture sportive. 5 milioni di Euro sulle strutture sportive, altri 5 milioni di Euro sulla rigenerazione urbana dei nostri comuni della Valle. ma soprattutto l'impegno di programmare, perché la via d'uscita, la prospettiva, la visione che noi diamo alla comunità non è una visione solitaria di Gioio Sionica, ma è una visione all'interno dell'unione dei comuni, che è una delle sfide maggiori. Vedo scorrere alcune immagini, questa era la presentazione di un altro bellissimo progetto, che è un progetto sui borghi, andremo a realizzare un parco verde a ridosso della rupe di 6 mila metri quadri, più la ristrutturazione del mercato coperto. Insomma, il sentiero dei Mulini, 2 milioni e mezzo che arriva da Geosa fino a Martone, la messa in sicurezza del Gallizzi, un investimento enorme sul Gallizzi, che riguarda sia la messa in sicurezza, ma anche lo studio idraulico per poter sbloccare alcuni vincoli che sono messi dal PAI, c'è anche lì un finanziamento specifico, però sarebbe veramente lungo raccontare tutti gli investimenti che ci sono. La cosa che mi preme di dire è questo, noi abbiamo preso questo Paese in certe condizioni, l'abbiamo portato ad avere un protagonismo e un grado di efficienza dei servizi buono, dopodiché lo stiamo proiettando verso il futuro in una dimensione che non è soltanto la dimensione di Geosa, ma la dimensione è quella della Valle del Torbido, che è un investimento fondamentale, pensare a Geosa all'interno di uno schema più ampio. A questo proposito le attività, le convenzioni che partono immediatamente sono fondamentali, penso ad esempio al servizio di stazione unica appaltante, la CUC che abbiamo già messo insieme con gli altri comuni e sta partendo, siamo l'unica CUC della città metropolitana a parte quella dell'ente metropolitano. Penso ad esempio al superamento della difficoltà del corpo di polizia municipale, noi non siamo più nelle condizioni di poter avere un corpo di polizia locale come comune o come comuni singoli, quindi da questo punto di vista se ne esce o mettendo insieme le forze, creando come abbiamo creato un unico corpo della polizia locale per tutte e sei comuni, o non ce la facciamo, sia dal punto di vista economico come dalla sostenibilità anche dell'organizzazione. Quindi la via d'uscita per migliorare i servizi è in alcuni settori mettersi insieme, ma non è una cosa che faremo, è una cosa già fatta che si vedranno i frutti da qui a breve.